ciao sono valentina della fattoria didattica la piccola campagna oggi prepariamo insieme dei muffin ai frutti di bosco una merenda leggera e gustosa utilizziamo farina tipo 2 frutti di bosco olio di semi di girasole uova latte o bevanda vegetale yogurt zucchero lievito e scorza di limone mescoliamo lo zucchero con l'uovo mescoliamo bene fino ad ottenere un impasto schiumoso aggiungiamo la farina mescolando il latte o la bevanda vegetale a filo aggiungiamo poi l'olio e le scorze grattugiate del limone uniamo i frutti di bosco lo yogurt e infine il lievito mescoliamo bene tutto e amalgamiamo prendiamo il pirottino e lo riempiamo con il composto a circa tre quarti in alternativa possiamo usare anche lo stampo in metallo per i muffin o la tortiera inforniamo i nostri muffin a 180 gradi per una ventina di minuti lasciamo raffreddare e decoriamo con frutta fresca e buona merenda a tutti